ciao oggi è quattro macchina di angela stiamo andando all'ingotto italy altrucino quasi le 10 stiamo peggio perché è lento signore no vabbè ero stampo perché ho fatto il viaggio in una moglie non c'è perché c'è una pelle e mo mi tocca andare a fare la spesa andiamo al mercato finalmente la prima volta in vita sua bugia andava al mercato io al mercato di vita vita palazzo di vita palazzo andiamo lì e poi dovevo andare poi devo tornare qua per lasciare la spesa per ma dopo e poi andiamo a fare i triangoli a superga dove vendono gli zaini le scarpe e quelle cose lì e poi forse riusciamo a mangiare se ci spicciamo ci spicciano domanda la fa una così importante a cambiare il biglietto oppure che devo partire ciao ciao siamo tornati e c'è un macchina di angela stiamo andando all'ingotto siamo arrivati a italy ci sono un sacco di cose il primo italy vuol dire qualcosa primo italy dal mondo del mondo qui è nato poi si è moltiplicato italy altrucino sì abbiamo fatto anche il video in macchina poi l'alessandro riconoscete mi piace di un bel giorno ciao 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 Siamo sulla dentiera, la dentiera di Angela, Angela, siamo andata super, i trini storici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti Siamo arrivati alla cosa di superpa Basilica, non cosa Le cose sono altre cose Le cose sono altre cose Questa non è una cosa Si vede, no? Tutto lo sospiro d'ora L'avete vista sui libri L'avete vista però ora la vedete qui Io l'ho anche disegnata per un esame di felice Non penso che il tuo l'abbia disegnata Sì, l'ho disegnata Andiamo a vedere cosa si vede vicino qua Un libricetto Allora spieghiamo un po' il panorama Sì Questa è la Dora Che si divide a una biforcazione Che vale in due parti della città No, è sempre Dora Dora bella No, sì Quello lì invece è il Po Che non si vede Spostati un pochino dietro gli alberi E vicino a un pochino Si vede la puntina della Mole Sì, diciamo che nel video si vedrà Dietro a destra della puntina della Mole C'è quel bragiolone che si dirige da Catania Il bragiolone Famosissimo Siamo nella Massimica lì su Pertra 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 Musica Vedi che adesso si accende la luce nel fondo? Guarda, sono nelle casette, è notte, allora si accende la luna e le stelle, quando si spengono perché ritorna il giorno. Lasciamo da dietro la basilica, superta, li vediamo di nuovo, benissimo avanti. Il piazzale è antistante, qual è sempre Angelo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS